Buongiorno signori, volevo farvi riflettere su una cosa di cui parliamo spesso. Tarallucci, primia in questo caso, ma vale per qualsiasi prodotto o per qualsiasi marca. Integrali o bianchi? Beh, quali bisogna comprare? Quegli integrali perché fanno meglio di sicuro. Guardiamo i valori nutrizionali che è l'unica cosa che conta. Quale prodotto ha più calorie? Ha più calorie il taralluccio integrale. E ovviamente già immagino, eh però le fibre, eh però le fibre. Guardiamo le fibre. Una porzione, 40 grammi, di integrale ha 2,3 grammi di fibre. Una porzione bianca ha 1,36 grammi di fibre. Si parla per porzione di un grammo di fibra. Mezza mela con la buccia ha qualcosa come 2-3 grammi di fibre. Questo per ribadire un'altra volta, se ce ne fosse bisogno, che non dovete farvi influenzare da troppe diciture riguardo i cibi. Integrale, non integrale, indice glicemico, eccetera, eccetera, eccetera. Che spesso siete forviati da quello che dovete fare veramente. Cioè, come diciamo sempre, perché è quello che riportano tutti i nutrizionisti e biologi seri, dobbiamo assumere questi nutrienti da frutta e verdura. L'eventuale minimo apporto dalla minima parte di derivati dei cereali che assumiamo nella nostra alimentazione è veramente minuscolo e rischia solo di portarci fuori strada. Esattamente come in questo caso, in cui avete sostanzialmente due prodotti uguali, o quasi, ma il marketing degli ultimi anni vi porta a pensare che non sia così. Vi aspettiamo in fondo.